Gennaio 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 di Francesca Fialdini sembra destinata ad avviarsi sulla via del tramonto. In lizza per conquistare le telecamere, a fianco di Tiberio Timperi, c'è Elisa Isoardi che potrebbe mollare la prova del cuoco.Canale 5 deve invece correre ai ripari per la prima serata. I film non fanno ascolti. E le fiction vanno forte solo con Gianni Morandi e Ultimo Bova. Non a caso si chiede un impegno straordinario alle due regine del Biscione. Maria De Filippi che oltre ai suoi consueti impegni, dovrebbe allestire qualche puntata serale speciale di Uomini e Donne, mentre a Barbara D'Urso è stato chiesto di confezionare a breve un programma in prima serata non è chiaro se sarà rieliti o intrattenimento. La D'Urso da domenica sera torna con le nuove puntate della fiction La Dottoressa Giotre. E per Fazio potrebbero sorgere altri problemi.Martedi 8 gennaio 2019, 0501, ultimo aggiornamento 8 gennaio 2019 1134. inscrizione al nostro canale . Grazie a tutti.